Tanto per scaldarci, proviamo ad andare con le mani a tempo. Franco mi ha detto che devo fare uno spettacolo lungo. E voi anche, su con le mani, dai ragazzi. Batto un solo qui davanti. Io batto quattro e andiamo a Chicago e portiamo così com'è. Uno, due, uno, due, tre. Come on, baby, don't you wanna go? 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 Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì.